Umberto Castaldi è un primario chirurgo, bravissimo nel suo lavoro, però nel privato è pieno di disastri, poveraccio. Io mi chiamo Lucia Santilli, l'unica donna in mezzo a tre maschi. Io è un personaggio che amo molto perché nonostante un apparente cinismo, è un uomo secondo me fragile, buono, è il primo assistente di un grandissimo chirurgo, quindi anche lui è un bravo chirurgo, altrimenti non sarebbe lì. Deve essere un uomo serio, almeno nella sua professione, poi chiaramente nella vita come vedremo lo è un po' di meno. Il mio personaggio in questo film è Amedeo, l'anestesista dell'equipe chirurgica e io sono un po' la vittima del gruppo di questa equipe. Non sono le battute, sono i tempi recitativi, i tempi comici che uno ha che poi possono far più ridere di una semplice battuta. Grazie a tutti.